benvenuti benvenuti cari amici siamo vi dico questo nuovo video naturalmente come sempre ricordo di suggerire like, iscrivervi canali, iscrivervi anche canali telegram oggi andremo a vedere quello che sta avvenendo su bitcoin perché abbiamo visto come nei giorni scorsi il governo tedesco è andato a vendere BTC però sembrerà che BlackRock letteralmente è pronta all'acquisto quindi questo potrebbe essere un elemento bullish andremo a vedere poi anche altre notizie che sembrano implicare nuovamente un ritorno da parte di bitcoin e soprattutto da parte delle altcoin per cui all'interno di questo video andremo a vedere tre settori che dal mio punto di vista andranno a esplodere in questo bull market e per cui iniziamo subito per cui iniziamo subito con quelle che sono le principali notizie di giornata perché come abbiamo visto ok nei giorni precedenti il governo tedesco è andato a vendere ok parte di bitcoin questo ha creato un piccolo dump però sembrerebbe ok questo dump in questa fase di mercato sia letteralmente riassorbita da BlackRock che sta acquistando voglio mostrarvi anche più in particolare ok quelli che sono gli acquisti in questa fase a parte di BlackRock che proprio 22 ore fa è andato a acquistare circa 18.57 milioni di dollari in bitcoin quindi attenzione perché insomma queste sono comunque ok notizie bullish in particolare l'acquisto è avvenuto su Coinbase Prime quindi direi che ci siamo che ragazzi potenzialmente secondo me il bottom è stato fatto il peggio sembrerebbe essere passato e tra l'altro sono stati anche mintati ulteriori 250 milioni di USDC che dal mio punto di vista andranno che all'interno del mercato dei criptoli UTE non sono miliardi non sono trilioni però sicuramente sono soldi che faranno bene anche letteralmente al mercato in futuro dopo che altra notizia super bullish secondo me è la seguente perché al praticamente 25-27 di luglio ci sarà una Bitcoin Conference ok denominata Bitcoin 2024 Nashville dove praticamente parlerà anche Donald Trump vi ricordo Donald Trump candidato alla Casa Bianca quindi insomma è interessante anche capire il fatto che comunque Trump è poco cripto vi ricordo che a novembre ci saranno le elezioni e se Trump vincerà secondo me ci sarà letteralmente Sky Rockets non so ovviamente magari di Bitcoin e di tutte le altcoin ma soprattutto anche dei politician token che insomma io vi dico studiate perché potrebbe essere letteralmente una nuova narrativa che potrebbe esplodere dopodiché andiamo a dare quello che sta avvenendo su Bitcoin in questo preciso momento prezzo di 58.176 dollari ne parlavamo ieri bellissima lection che sembra confermata cioè quella del RSI weekly la teoria per cui il supportone è stato toccato in zona 45.38 e Bitcoin sembra voler ripartire quindi attenzione ragazzi perché abbiamo avuto sia un double bottom a livello di prezzo sui 53.9 e sia un double bottom a livello di RSI sul weekly sui 45.65 quindi insomma secondo me sono ottime zone di buy soprattutto per quello che sarà il futuro e dopodiché vedete per l'appunto qui il double bottom confermato in zona 53.900 dollari con ulteriori 30 delle RSI sul daily quindi direi molto molto interessante le action di Bit al momento vedo una forte resistenza in zona 60.000 dollari che se sarà rotta ragazzi si prende e si va su quindi cosa potrebbe venire in sostanza? potremmo vedere magari nuovamente rilasciugimita a zona i 60 piccolo retest per poi prendere e ripartire questo è quello che letteralmente mi aspetto dopodiché andiamo a dare Ethereum Ethereum stessa identica situazione perché ha tenuto questo supporto dei 2.800 dollari che parlavamo di essere la peggiore ipotesi possibile più volte testato e quindi da qui da Ethereum che insomma partirà quello che poi sarà secondo me il bull market leggendario e tra l'altro se andiamo a vedere Ethereum contro Bitcoin anche qui confermato il supportone in zona 4.7 quindi tutto sta andando per il verso indicato che dal mio punto di vista cioè questi shake di mercato sono normali fanno parte del gioco e sottolineo il gioco quindi la parola d'ordine e tolleranza per quelle che poi saranno numeri letteralmente devastanti ovviamente noi dentro del gruppo Cowboy sappiamo gestire queste situazioni quindi ti dico se vuoi entrare anche tu dentro del gruppo Cowboy ti ricorda prendere un tratto gratuito perché insomma perdere la testa in queste fasi di mercato vi può letteralmente portare a perdere anche tanti soldi lo vediamo lo vediamo lo sento perché insomma ci sono persone che purtroppo non riescono a tollerare queste situazioni dopodichè andiamo a dare dei settori che secondo me andranno a esplodere in questo bull market allora il primo che ho selezionato è quello di Dex perché dal mio punto di vista è ancora altamente sottovalutato in questo momento capitalizziamo 16.2 miliardi torniamo al primo posto Uniswap con 6 miliardi proprio di Unio che volevo andare a parlare perché abbiamo parlato di Ethereum e quindi andiamo a parlare di quello che è stato il primo Dex che girava appunto su rete Ethereum non è che girava gira ancora su rete Ethereum in questa fase di mercato siamo a 8 dollari vediamo che abbiamo il supportone in zona 3.40 successivamente abbiamo fatto addirittura 17 dollari ragazzi secondo me Uni è un'ottima occasione soprattutto se ci sarà nuovamente Sky Rockets da parte di Ethereum che ritengo assolutamente sì dopodichè allo stesso modo parlando di quello che invece è un nuovo Dex Jupiter ok vediamo che Jupiter praticamente ha questo supportone in zona 0.58 double bottom e insomma avevano preso anche un 1.70 quindi anche Jupiter dal mio punto di vista è molto interessante ovviamente molto dipenderà da quello che avrà anche su Solana però vediamo che anche Solana qui ha confermato quello che è addirittura noi lo chiamiamo double bottom qui potremmo chiamarlo four bottom nel senso che quattro volte ha ritestato la zona di 120 e ora siamo in 142 secondo me insomma Solana sta ripartendo ovviamente questo potrebbe anche andare a favorire Jupiter e dopodichè volevo anche ricordarvi altro secondo me Dex molto interessante per l'appunto Cake Cake in questo momento di mercato ha un prezzo di 1.88 guardate qui proprio il livello più basso fu il dollaro quindi molto interessante Cake avevamo preso i 5 dollari e tra l'altro qui avevamo visto quando BNB è andato in ultramai ok quindi aveva praticamente passato la zona ai 700 dollari l'editura ha rotto l'ultramai del 2021 Cake insomma era partito quindi attenzione perché se Binance ok con il recupero recovery da parte di Bitcoin di Ethereum e compagnia bella dovesse ripassare oltramai attenzione a Cake perché insomma la forza propulsiva interessante in sostanza Cake sembra un BNB a leva ok così potremmo definirlo ovviamente ti ricordo che se anche tu vuoi migliorare le tue conoscenze all'interno del mondo cripto ti ricordo vai su samubit.com ti iscrivi ce li hai raccorsi fino a tre corsi gratuiti per ogni corso sì tre corsi tre video per ogni corso e direi molto interessante che il tutto soprattutto Dexmania quindi insomma vatteli a vedere perché secondo me sono letteralmente importanti da conoscere per cui andiamo a vedere un altro settore che dal mio punto di vista sarà leggendario quello del Iecoin che in questo momento capitalizza 24,3 miliardi e andrò a vederne alcune che cosa mi sorprende in questa fase di mercato ok letteralmente ci sono volumi ok guardate una coin ad esempio come IOTS che comunque capitalizza 462 milioni in questo momento ha volumi per 3 milioni ragazzi questi sono numeri letteralmente da bear market ok quindi il fatto che non ci siano volumi è molto interessante che in questa fase di mercato per quello che arriverà guardate qui un render un render che è uno dei principali coin dell'intelligenza artificiale è andato a scaricare un 60% queste sono ottime occasioni di buy stavamo a 12 dollari ora siamo praticamente a 6 dollari con addirittura un riaggiungimento di 5 dollari quindi una delle prime coin da osservare che in questa fase di mercato è render dopodiché TAU TAU grandissima coin che era arrivata addirittura quasi sui 800 dollari è andato a scaricare guardate qui i bei supportoni in zona 200 dollari un meno 75% e anche questa secondo me è una grossa occasione di buy quindi anche questa da considerare assolutamente in questa fase di mercato guardate qui come sono tipici ok questi scarichi anche TAU ha già scaricato un 50% e dopo ci fu una run molto ma molto interessante guardate qui addirittura fece un 1500% un 15x quindi ragazzi quando osservate queste coin guardate anche gli scarichi che hanno fatto se sono coin buone ok perché se sbagliate coin e scaricano è ancora peggio ok ve lo dico quindi state attenti e poi un'altra potrebbe essere IOTS guardate qui che bel scarico del 70% praticamente e anche IOTS insomma un progettone che per l'appunto dicevamo al momento non ha volumi dopodiché andiamo a dare il settore meme settore che ovviamente secondo me è quello più interessante ok da osservare da qui è un bull market in questo momento capitalizziamo 45 miliardi ovviamente ne abbiamo parlato di svariati meme ok in questa fase di mercato il nostro benchmark i nostri benchmark sono sempre quelli Doge, Shiba, Pepe ok al momento e dopo secondo me il resto sono praticamente scommesse ok scommesse che però potrebbero dare grossi rendimenti in futuro partiamo da quello che è il nostro benchmark cioè Dogecoin in questo momento prezzo di 10 centesimi e 9 insomma un Doge che sta tenendo addirittura abbiamo fatto nuovamente 9 centesimi e attenzione perché insomma Doge dal bottom bottom che fu confermato dei 5,5 scaricò dall'ultima dei 70 a 3 centesimi circa un 93% ora è tipico ok da parte di un meme scaricare in bear market del 93% siamo appena al doppio del bottom quindi insomma secondo me Dogecoin deve ancora sprigionare quella che ha la sua potenza chi che invece l'aveva già sprigionata però tendenzialmente è ancora sottovalutato ok ma questo dal mio punto di vista è per l'appunto Pepe Pepe comunque ha avuto un scarico del meno 50 un po' di più addirittura siamo arrivati ai meno 55 qui bellissimo double bottom e Pepe potrebbe insomma apprendere e ripartire quindi attenzione a Pepe allo stesso modo anche Brett ok Brett che si è comportato molto bene ok sullo scarico anche qui abbiamo avuto uno scarico di praticamente il 50% con Brett che ha punte addirittura relative anche nel breve abbiamo avuto un double top a 17 centesimi insomma sembrava che Brett potesse ripassare l'ultima e poi nuovamente scarico ma insomma Brett secondo me è un benchmark molto interessante che andrà a seguire letteralmente Pepe quindi insomma se Pepe farà schierò che ritengo che anche il buon Brett prenderà ripartirà e dopodiché ve lo mostravi anche Andy Andy altra coin del Pepe verso ovviamente ce ne sono anche altre e questo è scaricato forte guardate qui addirittura abbiamo scaricato dovrebbe essere un 76% è interessante anche Andy ok in questa fase di mercato vi ricordo che Andy comunque capitalizza 90 milioni molto piccolo però insomma potrebbe offrire grossi rendimenti e altra coin di cui parlavamo anche questa gira su rete soliana già listata su Binance è Bome ok Bome che l'ho detto già ieri secondo me sta rispecchiando un po' quello che fece Pepe i tempi non so se dare gli stessi rendimenti però insomma sembra essere molto interessante e poi l'unica che potremmo definire in questa fase di mercato sta performando e direi anche le grande è PayPay ha una liquidity ancora molto piccola 3.26 milioni quindi insomma la forza c'è sto vedendo un buon marketing devo capire se ancora dietro c'è Da Vinci probabilmente sì sapete chi è Da Vinci però insomma stanno spingendo stanno facendo bene quindi vedremo un po' quello che succederà in futuro potrebbe avere anche le connessioni per i versi Binance sì perché insomma Da Vinci è un personaggio di Spico quindi vedremo un po' quello che succederà ovviamente io all'interno del gruppo Cowboy darò anche qui direttive leadership potremmo così definirla su questa coin che può essere davvero interessante per cui se vuoi entrare dentro del gruppo Cowboy ti ricordo per l'ho dato quella gratuita ti ascolto andiamo a vedere assieme se effettivamente sarà idoneo oppure no e per cui se è piaciuto questo video ti ricordo di di suggerire il like di iscrivervi al canale e noi ci vediamo presto hasta la vista ombre